Buongiorno ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video del Gobbo Toscano ci sarebbero ulteriori novità e sviluppi in questo caso calcio scommesse o scommesse illegali o scommessopoli, chiamatelo come volete ci sono delle novità perché sono uscite fuori delle chat agli inquirenti, cercando ovviamente spulciando nei telefoni dei vari fagioli, zaniolo, tonali ecco fagioli come vi avevo annunciato ieri è quello più nell'occhio del ciclone, si parla quasi sempre di fagioli e di tutto quello che circondasse il giocatore ecco qua che ovviamente l'attenzione viene spostata sul giocatore della Juventus perché come sempre ci deve essere qualcuno della Juventus che paga ma partiamo da un'altra cosa cosa è venuto fuori di nuovo? è venuto fuori che Bonucci era conoscenza della problematica del ragazzo quindi Bonucci non ha fatto niente e poteva e doveva fare essendo comunque stato anche il capitano essendo un punto di riferimento nello spogliatoio però non ci sono prove del suo coinvolgimento invece dal punto di vista delle scommesse effettuate altre cose che stanno venendo fuori assai gravi sono che qualcuno dello staff di Massimiliano Allegri qualche collaboratore tecnico sapesse sempre di queste problematiche di fagioli con il gioco ora se così fosse ripeto io in termini di legge non so cosa potrebbero prevedere a livello di problematiche per lo staff tecnico, per Bonucci eccetera eccetera però sarebbero sicuramente cose brutte cose brutte perché sai di una problematica di uno dei più giovani della tua rosa e lo sapete in più persone e nessuno fa niente sempre queste orecchie da mercante ecco e poi si dice uno dice deve essere il capitano deve essere un leader ecco secondo me i capitani e i leader almeno di una volta oggi purtroppo siamo sempre lì a dire puttanate avrebbero dovuto prendere in mano la situazione e parlarne con il ragazzo e con gli esponenti della società ma detto questo io ripeto per me la società sapeva già c'è già troppe persone che sapevano all'interno della Juventus voi che non lo sappiano gli organi principali bene possiamo dire siamo tutti sordo, ciechi e mutri tutti che non si capisce nulla per arrivare a di una cosa del genere ma adesso andremo comunque a vedere quello che succederà nel frattempo si parla anche dell'inter, del triplete o del rublete vediamo un attimo perché ci sono delle novità anche lì ci sono delle novità anche lì si parla in alcuni casi addirittura addirittura di l'Inter trema i nomi coinvolti il revoca del triplete Roma in B Juventus in B cioè ad oggi sono tutte cose esclusivamente in più per sempre cercare di fare un po' di macello però che vengano fuori i nomi dell'Inter e della Roma mi fa cominciare a pensare che ancora di più che questa indagine era un'indagine complessa un'indagine all'ampio spettro ma una problematica è che quando viene fuori qualcuno della Juventus prima di arrivare alla come si dice alla soluzione finale scusate passatevi in termine trovando anche gli altri interisti milanisti eccetera eccetera finisce tutto a tra luce e vino e come può finire a tra luce e vino Fabrizio Corona esce con delle notizie su cui gli inquirenti già stavano indagando Corona anticipa tutti i tempi perché l'arrivo della polizia a Coverciano è perché Corona mezz'ora prima aveva fatto i nomi di zone elettorale altrimenti la polizia sapeva sicuramente di loro due ma ancora voleva andare più a fondo e lasciare le cose un attimino nascoste per far sì che le persone potessero continuare a parlare della vicenda diciamo che sta succedendo bene o male come il 2006 a me non mi importa se mi date del complottista o se mi dite che no, no, non è possibile secondo me è più che possibile è molto probabile molto probabile che le cose stiano in questo modo vi ripeto per come la penso io poi mi posso sbagliare come se sbagliano tante altre persone però almeno provo a farci il ragionamento dietro Corona è uscito con queste notizie per fermare il tutto tanti mi dicono no tanti mi dicono sì ma io ho la mia di idea giustamente rispetto a quell'altrui ma ho la mia e porto avanti la mia convinzione la mia idea più che convinzione che Fabrizio Corona se non esce con quella notizia la cosa va a coinvolgere tante altre squadre se esce praticamente fa sì che si blocchino le indagini da un certo punto di vista perché nessuno parlerà più tramite telefoni nessuno andrà più a scommettere quindi se alcune persone ancora non erano entrate nell'occhio del Cilone difficilmente ci entreranno quindi ci si fermerà ai nomi tirati fuori da Corona e poi anche lì bisogna vedere perché alla fine a livello di indagati si parla soltanto di quei tre Fagioli, Tonale, Zaniolo anche Zaleschi si parla si sia giocati Cartinino Giallo ma lui stranamente non è indagato come tanti altri come tanti altri si parla di Bastoni, Barella si parla di Gatti, Chiesa si parla di Bonucci si parla di un sacco di mezza squadra della Lazio se non di più un'altra mezza della Roma il Lecce ce ne sono un'infinità però che è successo dicendo queste cose in anticipo facendo uscire queste notizie è successo come con Panorama nel 2006 sicuramente qualcuno che le ha passate a Corona c'è e quello che le ha passate a Corona ci sono due ipotesi o è realmente dentro l'ambiente malavitoso o è dentro l'ambiente della giustizia che sarebbe molto più grave ma in ogni caso sapere che abbiamo un personaggio come Fabrizio Corona indipendentemente dalla persona che è io non voglio giudicare il Fabrizio Corona non me ne frega niente ma non perché mi sta simpatico perché non me ne frega niente il punto è un altro farsi gestire un'indagine da un Fabrizio Corona cioè è lui che ha tutti in scacco perché ha queste notizie che sono le stesse più o meno degli inquirenti però lui può decidere le tempistiche perché se gli inquirenti ci dovessero mettere un mese a livello burocratico a stabilire se quel nome debba uscire perché è indagato e ci sono gravi indizi di colpevolezza eccetera eccetera e lui decide di farlo uscire la settimana prima e gli inquirenti sono costretti ad andare un po' a pigliarlo e a portargli il foglio la notifica una settimana prima e non va bene questo non va bene e questo ti fa capire che Fabrizio Corona sta tirando fuori nel suo fare sta tirando fuori un bug immenso cioè sta facendo capire un po' a tutti quello che è la giustizia italiana cioè uno schifo una presa per il culo cioè non si riesce a passare bene una volta come paese qui parlo proprio come paese e quindi l'unica cosa che spero io è che in tutto sto schifo ci sia un messaggio che arrivi comune a tutti cioè che in Italia oggi non ci sono regole e non ci sono lavori fatti bene a livello di legislatura di giustizia di magistratura eccetera eccetera è tutto marcio perché sia che le notizie gli siano arrivate dall'interno quindi da inquirenti è gravissimo vuol dire sono corrotti e ce ne sono a bizzeffe di corrotti lo sappiamo benissimo l'altra è che gli siano arrivate dal mondo della criminalità e che però lui abbia tutto sto potere di gestire le tempistie sulle intercettazioni e sulle uscite delle camionette della polizia per andare a prelevare i ragazzi mi sembra veramente assurda sta situazione ma è così mi sembra assurda ma è così quindi mettiamoci l'animo in pace viviamo in un paese di merda bene bene ne vedremo delle belle sicuramente non si fermeranno qua sicuramente andranno avanti tutte queste cose vedremo chi sarà coinvolto chi più chi meno intanto Bonucci starà pensando lo staff tecnico di Allegri staranno pensando vediamo quello che verrà fuori io ve lo dico avrei preferito avesse scommesso Allegri almeno si le va ai problemi e invece no Allegri si dice è strano ai fatti è strano sia sul discorso Fagioli che sul discorso proprio di aver giocato non giova lui giova a cavalli quindi lasciamolo fare per questa volta che non c'entra nulla ragazzi fino alla fine Forza Juve e ci vediamo in un prossimo video in una prossima live vediamo quando riusciremo a farla tanto grazie a tutti della partecipazione che date ogni giorno alle nostre live al contributo che date a ogni video quindi mi raccomando like iscrizione commento e condivisione che sono sempre molto molto importanti ciao ragazzi alla prossima